Ben ritrovati gentili e spettatori, alla nuova puntata di Vivere, il format tv incentrato sui disturbi sono i malesseri che stanno consumando le nuove generazioni. Sin qui abbiamo trattato tematiche inerenti alla crescita dell'individuo settimana scorsa con il dottor Poggini, al bullismo insieme all'Università di Arezzo e a Ilaria Abidini e abbiamo parlato anche di dipendenze con la dottoressa Cocci del Cerdi. In questa puntata invece andremo ad aprire un nuovo capitolo dedicato a una tematica molto molto importante soprattutto in questi ultimi anni, si tratta dell'ansia, dei disturbi e attacchi di panico e tutti i suoi stadi. Per comprendere questa parte di viaggio siamo andati a trovare la dottoressa Morena Giorgi, grazie per aver accettato l'invito. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Allora, io direi subito di partire con lo spiegare cos'è l'ansia e come si manifesta. Allora, l'ansia è un disturbo generalizzato che si innesca nella vita delle persone creando uno stato d'animo, si dice di allerta e fuga, cioè creando uno stato d'animo di tensione con dei fenomeni che hanno a che fare con l'aspetto fisico, con l'aspetto emotivo e con tutto quello che crea una situazione proprio interna di tensione, di rigidità e di proprio situazioni che hanno proprio un mix di aspetto fisico e di aspetto emotivo. Il disagio arriva a diventare così importante, così sollecito che poi di norma dopo più o meno tempo si conclama poi nel vero attacco di panico e quindi insomma è uno stato d'animo molto molto complesso che crea ansia anche per quello che coinvolge dal punto di vista fisico. Certo, prima di proseguire nell'andare a vedere anche gli stadi della varianza, mi sono dimenticato prima anche di presentarla poi ufficialmente, lei che è da anni comunque che lotta contro diciamo questo disturbo poi. Allora, io mi occupo di questa cosa, l'associazione e la nostra realtà è nata circa 20 anni fa e è nata proprio da un bisogno, da una necessità oggettiva di persone che vivevano questo problema. All'interno del Dipartimento, ad Arezzo noi abbiamo, il servizio genera anche, eroga appunto dei momenti di ascolto che fa l'ASL proprio e persone che erano inserite proprio all'interno di questi percorsi della gestione dell'ansia, alla fine del corso manifestavano un disagio, un disagio nel non avere più questa stampella e quindi in maniera magica come nascono le cose, quelle belle nascono tutte proprio non per un calcolo proprio preciso, loro continuavano a vedersi da amici in location piuttosto improvvisate. Dopodiché quindi attraverso il primario, l'allora primario dottor Cesari è nata questa idea e così abbiamo fondato, formato questo tipo di risposta che si chiama appunto DUMBO DAP. Ecco, come funziona poi all'interno per chi ci sta comunque anche seguendo, magari trova in dei punti di cui stiamo parlando, anche degli stati d'animo, come può avvicinarsi all'associazione? Allora, chi ha questo tipo di sensazioni, questo tipo di disturbi che ovviamente generano una qualità di vita molto condizionata, limitata, questo tipo di situazione arriva all'evitamento e se non viene preso in considerazione arriva proprio a chiudere in casa la persona, per cui la nostra realtà è una realtà che ormai è appunto attiva da vent'anni, si avvale di un sito, di un sito web dove le persone possono contattarci, scrivere una mail e chiedere un incontro, si avvale di anche invio da parte di qualche medico, di qualche psichiatra, medico di base, psicologo che ritiene che l'associazione al suo percorso di cura integrato con l'inserimento all'interno della nostra realtà possa creare risposta e possa creare quindi coadiuvare l'altro percorso e poi si avvale appunto della possibilità di fare un colloquio, prima un colloquio con me, un colloquio che tende a capire insomma meglio la persona, i motivi della persona e anche con questo colloquio preliminare a valutare anche la possibilità di essere inseriti all'interno oppure non è ancora l'ora, quindi insomma c'è questo colloquio prima. Dopo questo colloquio la persona può scegliere di partecipare, e ci sono più realtà di questo tipo di iniziativa, ci sono realtà che chiedono, tutte le regole sono interne dei gruppi, il nostro è un gruppo dove la partecipazione è libera, la persona può venire, può parlare, può solo ascoltare se vuole, può ascoltare per tanto tempo, può parlare, è una libera scelta quello che è l'usufruire di questa realtà e quindi noi siamo con delle regole molto molto libere perché ecco già la persona è incatenata dal disturbo, quindi se anche qui trova aspetti rigidi per noi non è giusto. Certo, e anche perché poi per riuscire a liberarsi da virgolette anche di questi disturbi se ne deve parlare, come più volte abbiamo detto anche nel corso delle altre puntate? Il fulcro del gruppo è proprio quello, la parola magica se vogliamo è la condivisione, condividere lo stesso disturbo, condividere lo stesso problema non ti fa più sentire l'unica che ha questo, cioè non ti fa più sentire isolata, non ti fa più sentire marcata da questo tipo di disagio e quindi già la condivisione alleggerisce tantissimo la situazione emotiva, devo dire che è proprio, ha un effetto terapeutico enorme, proprio la parola magica è condividere lo stesso disturbo con persone che hanno lo stesso problema. Ecco, come si evolve poi il percorso all'interno del gruppo? Ecco, il percorso si evolve, come ho detto essendo libera la partecipazione la persona viene e la prima cosa che di norma fa si presenta al gruppo e proprio inizia a raccontarsi, a raccontare le proprie emozioni, inizia a buttare fuori tutto questo peso che ha nel suo interno e quindi man mano, man mano, man mano la sua situazione interna, la sua compressione emotiva si allenta, si solleva, si alleggerisce e quindi questo è il percorso. Insomma in pratica poi noi stiamo lì da, inizia alle 6, il pomeriggio è 18 e dovrebbe finire entro le 20, 20 e mezzo invece a volte andiamo anche oltre le 21 proprio perché se una persona sta condividendo, sta parlando noi non la interrompiamo. Comunque è anche una cosa positiva questo, vuol dire che c'è tanta partecipazione. E' anche tanta flessibilità, si, proprio la persona ha modo di poter usufruire del suo tempo e della sua voglia di condividere senza paletti. Ecco, attualmente da quante persone è composta l'associazione? Allora, attualmente ci sono due realtà, due gruppi proprio per il semplice fatto che l'ottimum per dare tempo a tutti i componenti di poter utilizzare appunto una parte della seduta per parlare, l'ottimum sono 7-8 persone. Se andiamo oltre i tempi individuali vengono troppo piccoli, troppo risicati, quindi questo è l'ottimum. Ovviamente tutti in una stanza, tutti in cerchio, tutti condividendo la realtà. Ecco, le persone che poi al termine del proprio percorso riescono ad uscire anche da questo tunnel, rimangono per aiutare i nuovi arrivati? Esatto, si chiama gruppo di mutuo aiuto perché proprio non c'è un dare o un ricevere, c'è uno scorrimento di questi due termini. La persona non va solo per dare, non va solo per ricevere e proprio questo mutuo scorrimento di questi due atteggiamenti della vita porta le persone a non interrompere. Ci sono persone che da 20 anni vengono, sì, perché trovano là dentro un momento tutto per loro e questo ovviamente gli crea una condizione emotiva, è un po' come una grande valvola di sfogo dove si può utilizzare quel tempo solo per se stessi. Si ascolta e si viene ascoltata. Adesso riprenderemo subito il discorso dopo un attimo di pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci nel secondo spazio di vivere, siamo con la dottoressa Morena Giorgi. Allora, in primo spazio abbiamo parlato del gruppo... Morena Giorgi, basta così. Morena Giorgi, perfetto. Abbiamo parlato del gruppo Dumbodap proprio dedicato all'ansia, gli attacchi di panico e abbiamo qui una testimonianza di persone che sono riuscite a guarire e poi hanno continuato nel gruppo appunto a condividere con le altre persone. È vero, è vero. Noi siamo così soddisfatti e così soddisfatte di questo percorso anche perché è sostenibile, cioè soltanto di norma ciò che si può affermare con un risultato vero. E questo è proprio la testimonianza di una ragazza che viene all'interno del nostro servizio da circa vent'anni, proprio dagli inizi della Costituzione. e il suo percorso ha portato talmente risultato che abbiamo dovuto, proprio dovuto cercare qualcuno che scrivesse. L'abbiamo trovato in questa scrittrice casentinese, Marina Martinelli, che scrive proprio da molto tempo realtà proprio dell'anima, che si occupa proprio di condividere anche lei con le persone, quelli che sono dei percorsi, ha trattato più temi e qui l'abbiamo scelta proprio per oggettivare il risultato di una ragazza che è passata da una sofferenza tale, da un disagio tale, da una limitazione del suo quotidiano tale da creare proprio una limitazione di vita e invece oggi è una persona completamente guarita con una situazione di vita esemplare e quindi noi qua dentro c'è proprio la testimonianza di che cosa si può ottenere quando la persona riprende in mano la sua vita senza destinarla più ad altri. Dal titolo del libro Respira la felicità si capisce insomma quanta sofferenza ci può essere anche dietro e quanto lavoro puoi per poter tornare a star bene. Quanto lavoro? Quanto lavoro? Ovviamente tutto su se stessi perché nessuno può ovviamente risolvere ad altri le questioni che creano difficoltà, ma le deve risolvere la persona, ma proprio tramite questo percorso interno di lavoro su se stessi condiviso, alleggerito si arriva poi a un benessere come in questo caso. Questo è un libro proprio che oggettiva quello che io a parole non riuscirei mai a descrivere così bene come lo fa questo libro. Io consiglio a chiunque condivida questo problema di leggerselo per capire cosa si può ottenere. Il libro si può trovare in tutte le... Sì 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 tranquillamente quindi è un altro consiglio. È vero tutto quello che si può leggere e anche testimoniare. Ecco a proposito dell'autrice del libro, quando ha scoperto lei, se si può comunque iniziare a spulciare anche all'interno delle pagine di questo libro, che soffriva di ansia? Ha scoperto quando era molto piccola, un adolescente proprio, credo che mi sembra che andasse alle medie, quindi molto molto piccola. Ecco ovviamente qua dentro il libro il nome non è quello reale, ma lei proprio è stata proprio un esempio, ecco perché abbiamo deciso di scrivere proprio un libro su questo percorso, perché lei aveva proprio una vita condizionata al punto tale da non potersi più chiamare vita così piccola. Lei stava davvero malissimo. Ogni iniziativa che doveva prendere studiava e conduceva la sua vita in maniera molto 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 limitata da questo disturbo, sia dal punto di vista comportamentale che anche dal punto di vista fisico e fisiologico, con dei disturbi proprio sia emotivi che fisici molto grandi, molto. Qual è stato poi il suo percorso? No, non vogliamo svelare le carte, però che l'ha portata poi a riconoscere prima i fatti e poi a risolverli, a essere consapevole insomma. Allora il suo percorso è proprio l'esempio pratico di quello che deve fare una persona, che dovrebbe fare una persona che soffre di questo disturbo. Qual è il percorso? Innanzitutto è prendere atto che è qualcosa che va risolto e quindi la volontà, quindi volere trovare una soluzione. L'appoggio iniziale quando si sta male, come stava male questa ragazza, ha bisogno di un supporto medico, quindi ha bisogno dello psicologo, dello psichiatra e questo lo stabiliscono queste figure, quanto dell'uno e quanto dell'altro. E quindi anche di un supporto farmacologico, perché la situazione è così emotivamente alterata che anche vedere quando c'è tanto scossone diventa difficile. Quindi c'è bisogno di rifare fermezza e chiarezza. Diciamo, togliamo un po' anche il tabù dei farmaci perché in caso necessità... Togliamo, assolutamente sì. È proprio il mix di queste realtà, quindi del farmaco, dello specialista e del percorso personale condiviso. Ecco, credo che proprio se vogliamo buttarla una ricetta, ecco questo credo che sia il mix, il cocktail proprio perfetto. E poi è chiaro che quando le cose sono chiare, quando la persona ha buttato sul tavolo tutto ciò, tutta la borsa della sua vita, ecco poi piano piano nel percorso rimette dentro quello che serve e toglie quello che ovviamente ha creato forze proprio questo stato d'animo. Diciamo che utilizzando anche la simitudine un po' come un puzzle, che cerca di ordinare i pezzi e poi metterli insieme per poter vedere la figura. Sì, sì. Rimettere insieme i pezzi, se vogliamo, lo possiamo ricollegare a un puzzle di vita, ma quello che più conta è individuare ciò che ha creato questo tipo di situazione, da dove nasce l'insoddisfazione, da dove nasce il disagio, se non si arriva ad individuare quello, forse non è facile ricomporre il puzzle. Ecco, il compito è proprio quello di riuscire con la condivisione e con l'approccio prima che ho accennato, farmacologico e anche specialistico, è proprio quello di capire l'eziologia. Che cosa ha innescato questo disturbo? Che cosa ha innescato questa insoddisfazione? In pratica, dal mio punto di vista, l'attacco di panico, facciamo una similitudine, io lo identifico come la tua identità personale, chi sei davvero dentro, che bussa la tua porta e ti dice ok, quando realizzi te stessa, quando realizzi te stesso, quando ti occupi di te. Ecco, questo secondo me è proprio l'identità personale che dice, e dal mio punto di vista più, come spesso invece viene fatto, più si nasconde e si cerca di nascondere questo tipo di sollecitazione e più i disturbi si fanno forti e più la sollecitazione interna diventa importante. Quindi il mio consiglio è proprio di mettere al primo posto proprio questo richiamo per un periodo di tempo, anche perché si tratta della vita propria, quindi non di quella di altri. Quindi, ecco, analizzeremo poi con calma anche tutti gli stadi dell'ansia che poi si vuole in attacco di panico. Ti ringrazio per averci spiegato, averci anzi presentato l'associazione Dubodap e averci presentato anche questo interessantissimo libro che sicuramente farà, aiuterà molte persone, speriamo che poi questa è la mission della nostra trasmissione. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia anche questa settimana. Noi ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata di Vivere.